Presentato questa mattina alla provincia di Salerno il progetto Unisa Night, pensato per gli studenti universitari fuori sede, che permetterà anche ai giovani dei comuni della Valle dell'Irno e della città di Salerno di raggiungere facilmente il centro del capologo durante i weekend e soprattutto di ritornare in tutta sicurezza, anche a notte fonda. Il servizio, che è già stato sperimentato con grande successo lo scorso inverno, sarà svolto da Bus Italia e toccherà i comuni di Mercato San Severino, Fisciano, Baronissi, Pellezzano e Salerno e garantirà anche un collegamento dal centro cittadino alla zona orientale. Questo servizio nasce due o tre anni fa su richiesta delle associazioni studentesche ed era un periodo molto particolare perché si parlava dell'isolamento di questi studenti fuori sede che vivevano a San Severino, Fisciano, Baronissi, non potevano raggiungere la città o meglio non potevano tornare dalla città di Salerno per passare una serata anche di sabato sera e questo rischia di isolare ancora di più questi ragazzi. Abbiamo avuto purtroppo anche qualche episodio tragico negli anni scorsi quindi su questa spinta emotiva si parlò di poter prolungare i collegamenti. Quando è stata fatta la sperimentazione un paio di anni fa è stato un risultato molto positivo perché poi anche le famiglie della Valle dell'Inno hanno avuto la comodità di non dover andare a recuperare i ragazzi a Salerno che magari erano scesi per passare la serata. Quindi l'abbiamo ripetuta, l'abbiamo allargata anche sul territorio salenitano quindi ci sarà un collegamento anche verso la zona est, verso il centro e quindi anche i ragazzi salenitani vorranno utilizzare questo collegamento notturno per muoversi in maggiore tranquillità senza usare mezzi privati, motorini piuttosto che auto. A gennaio inizieranno i lavori per il binario di isolamento della metropolitana e questo consentirà di poter fare un servizio da Reiki all'università e poi ovviamente prolungato fino all'aeroporto appena terminano i lavori dell'aeroporto. Ma i fondi FSC ci consentiranno di completare l'aeroporto e completare la viabilità di accesso che la provincia ha già approvato in conferenza di servizi. Per quanto riguarda la stagione winter, quindi la stagione invernale sicuramente i voli saranno qualcuno in meno perché è chiaro che in estate è attirato e è attirato benissimo, ma il nostro inverno ci preparerà la prima vera estate perché inizieremo già da aprile e quindi avremo una stagione summer ancora più carica di quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi.